in questo numero del salus tg encefalopatia epatica complicanza della cirrosi lotta alla calvizia e dal superplasma alla terapia cellulare in un gene il segreto dei gufi condannati ad un jet lag eterno rischiano di essere archiviati come piccoli default di una mente affaticata dall'età e invece potrebbero essere i segnali di un veleno in circolo l'ammonio che anebbia il cervello quando il fegato ammalato non fa più bene il suo lavoro l'encefalopatia epatica è un'alterazione della funzione neurosensoriale dei pazienti con cirrosi epatica è abitualmente una manifestazione abbastanza tardiva della malattia ha la caratteristica di essere facilmente soggetta a dei nuovi episodi e quindi ha necessità di essere identificata e trattata in modo da riportare il paziente con cirrosi epatica a una qualità di vita importante terapia cellulare per scongiurare la calvizia e contrastare altre malattie dermatologiche come l'alopecia a confermarne l'efficacia è il dermatologo fabio rinaldi presidente dell'international hair research foundation nel corso del suo intervento al quindicesimo congresso mondiale di medicina estetica e anti aging a monte carlo rinaldi ha ribadito che se super plasma prp promette di ottenere nell'80 per cento dei casi la ricrescita dei capelli ed un aumento della loro densità per la terapia cellulare anti allopecia le percentuali sono ancora migliori il popolo della notte si divide in gufi i nottamboli che si svegliano tardi e all'odole che vanno a letto con le galline si alzano molto presto ora un gruppo di scienziati statunitensi ha scoperto il segreto dei primi si nasconde nel dna nella mutazione di un gene chiamato cr y1 in sintesi il gene dei gufi condanna che lo presenta a un jet lag per n di circa due ore due ore e mezza